Quando una donna ha la scelta di sposarsi e avere figli, in un certo senso l'amore comincia, ma in un altro finisce. Quando meno se l'aspettava, un uomo entrò nella sua vita e cambiò i suoi sentimenti. Per sempre. Ho la netta sensazione di essermi perso. Era diretto nell'Aiova? Sì. Allora non si è perso del tutto. La Warner Brothers presenta la più appassionata storia d'amore dei nostri tempi. Le stavo cogliendo dei fiori. Non sono fuori modo, vero? Cogliere fiori per una donna... No, ho fatto, ma quelli sono velenosi. Scherzavo, mi dispiace. Ero presa da un turbinio di pensieri che non sapevo come interpretare. Alle antiche sere e alle musiche lontane. Tutte le mie certezze fino a quel momento a un tratto erano scomparse. Se vuoi che mi fermi, dimmelo adesso. Mi comportavo come un'altra donna, eppure ero più me stessa di quanto non fossi mai stata. No! Non lo so se ci riuscirò. A fare che? A riassumere tutta la mia vita tra adesso e venerdì. Devo sapere la verità perché sennò divento pazza. Non devo fingere che questo mi basti solo perché così deve essere. E non posso far finta di non provare quello che provo solo perché domani sarà finita. Lo dirò una volta sola. Vieni con me. Non l'ho mai detto prima. Clint Eastwood. Questo tipo di certezza si ha una sola volta nella vita. Meryl Streep. I ponti di Madison canti.